Ragazzi fermatevi un secondo, vi prego, mai come ora chiedo la vostra attenzione. Mi è successa una cosa sconvolgente. Ho trovato in cantina, in un vecchio scatolone impolverato di cent'anni fa, un pacchetto così di lettere che mio nonno nel 1940 inviava a mia nonna, non potendosi vedere, e all'interno di queste lettere è racchiusa un'intera concezione della vita, della felicità, del rapporto familiare e di Dio. Concezione che apparteneva sia a mio nonno che probabilmente ai tempi che furono. Nulla di minimamente paragonabile per me nella mia vita è stato tanto movente e commovente. Ho pianto, regà, mamma mia, mi sembrava una fontanella. Non riuscivo più neanche a leggere, si inghiozzavo per quanto piangevo. Per darvi un'idea voglio solo mostrarvi di cosa si tratta. Questo è uno dei fogli di cui sto parlando. Ragazzi, se sentiste l'odore che promana questo foglio, vi sentireste immersi nel passato. È una cosa imbarazzante. Questa mattina, uscendo di casa, ho avuto quasi uno shock ad immergermi nella società che conosciamo, perché talmente mi ero immerso in questi scritti che mi sentivo già appartenere a quei tempi. Io vorrei cercare di trasmettere le percezioni di quel tempo. Sentite come mio nonno esprimeva l'amore nei confronti di Emmy, mia nonna. Si chiamava nonna Emma e lui si chiamava Leo. Vorrei dirti tante cose belle, Emmy cara, ma esse perderebbero il loro valore se le mettessi su questo foglio di carta. Sono cose che si deteriorano anche dicendole a voce. Indovini tu quali esse siano? No? Ebbene, te lo dico io. Sono quelle cose, o meglio, quel complesso di dolci emozioni che si manifestano quando i tuoi occhi si soffermano sui miei e viceversa. Emmy cara, gli uomini in genere dicono di amare e per amare intendono la materialità. Io invece dico di amarti e per amore intendo sì la materialità, ma anche la spiritualità del sentimento. In questo secondo caso l'amore è perfetto. Ogni donna desidererebbe essere amata così, ma ben poche sono le fortunate. Tu sei fra queste. Io ti amo Emmy e in questo amore, oltre all'attrazione fisica, c'è il rispetto per la donna e la tenerezza per la compagna. E ancora, Emmy cara, la sera del 17 ho ricevuto la tua lettera, che come puoi immaginare mi ha fatto tanto piacere. Era dolce il profumo del foglio, ma le parole erano tanto care ed io te ne sono riconoscente. Volevo scriverti subito ieri, ma mi è stato impossibile per l'assoluta mancanza di tempo. Ma tu comprenderai e perdonerai questa mia indelicatezza involontaria. Ricordiamoci che nel 1943 siamo in piena seconda guerra mondiale. Mio nonno era nell'esercito, quindi capiamo quando dice per l'assoluta mancanza di tempo. Vorrei dirti qualche cosa di nuovo che abbia maggior potere espressivo. Ma benché io cerchi, non trovo. La nostra lingua non ha altri vocaboli per esprimere questo genere di sentimento. E allora lascio alla tua perspicacia il compito di valutare nella sua giusta misura la grandezza di questo affetto. È magnifico ragà, lucidante! In tutti i modi sappi che, se volendo materializzare il mio affetto tu vorrai paragonarlo a qualche cosa di immenso, non riuscirai a trovare quell'oggetto benché immenso esso sia, al quale tu potrai paragonarlo, perché esso è infinito. Ma a me mi esce il cuore, sarà perché è binotto, non lo so, mi sembra proprio poesia pura. Cioè questa è poesia pura ragazzi. Nella tua del 26 hai scritto, se un giorno ti perdessi, Leo, che cosa pensi? Stai tranquilla, Emmi, cara. Non sono un oggetto così piccolo da potersi smarrire facilmente. Mamma mia, regà, meraviglioso! Continua ad essere una brava fanciulla, perché un domani dovrai essere una brava sposa ed una buona madre. Io darò a te il mio nome e affiderò alle tue cure la mia casa. E in quella casa tu dovrai essere il simbolo dell'amore, della bontà e della pace. In essa tu sarai la regina e ne allieterai la sua intimità con il tuo sorriso. Mamma mia, regà. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare, regà? Invece in queste righe si percepisce quale sia il concetto di felicità a cui lui ricollega anche il rapporto con Dio e con la donna amata e che è importantissimo da sapere, da conoscere, da interiorizzare per riuscire a capire come è possibile che oggi, nei nostri tempi, noi non siamo felici o non ci costruiamo una serenità più stabile. Che i nostri giorni saranno felici sono certissimo, perché la felicità non è come la fortuna che capita a chi meno l'aspetta, ma è una cosa che ogni singolo mortale può fabbricarsi da sé. È questione di buona volontà e, se è lecito dire, di cristiana filosofia. Ma è bene che tu sappia cosa io intendo per vivere con filosofia, anche se sono costretto a farti una lezione della scienza antichissima e spiegartene rudimentalmente i suoi principi. Sappi dunque che fin dai tempi remotissimi l'uomo cominciò a lambricarsi il cervello per sapere come si era formato l'universo e chi ne era stato l'artefice. Comprendi benissimo come gli esseri di allora, di allora, lui parlava del suo passato, quindi pensiamo... Capisci benissimo come gli esseri di allora, nella loro ignoranza, ne fecero uscire fuori le versioni più disparate e affatto prive di criterio. Si ebbero filosofi come Socrate, Sofocle, Eraclito, Pitagora e Anassagora. Ciascuno di essi aveva i suoi seguaci, i quali formulavano i principi di vita del proprio maestro. Ma tutti quei principi, attenzione qui, ma tutti quei principi erano inapplicabili per il loro insostanziale fondamento. E le genti prive di quella guida morale che è ora il cristianesimo avevano costumi alquanto corrotti. Poi, mano a mano, da quei principi stessi, ne scaturirono altri, un po' più completi. E ciò con la riforma dei sofisti e dei panteisti. Mamma mia, sabori! Abbiamo poi lo stoicismo, che si avvicina moltissimo ai nostri attuali principi di vita. Ed infine il cristianesimo. Il cristianesimo è la più sostanziale delle verità filosofiche. Ebbe origine con la nascita di Cristo. E Cristo stesso, in età giovanissima, cominciò a predicare le sue dottrine. Dando così all'umanità, travagliata dal paganesimo e dai suoi falsi principi di vita, il benessere e la tranquillità. A me ha dato degli spunti molto significativi. Mi verrebbe da invitare, ad esempio, tutti coloro che non credono, tutti coloro che sono atei, a non dimenticare che il Cristo non è necessariamente fede. La fede vuol dire credere ad occhi chiusi, senza avere prove scientifiche. Possiamo anche ammettere che qualcuno non abbia questa fede e quindi sia ateo. Ma non può disconoscere il valore dei dettami comportamentali del cristianesimo. Il cristianesimo, come dice nonno, può essere anche letto in chiave di condotta di vita meritevole e stimabile. Lasciamo stare un secondo la fede, vivere secondo alcuni regoli comportamentali cristiani. Principalmente mi viene in mente vivere con amore verso gli altri. Una serie di regole comportamentali che anche se non sia fede si possono avere. E poi ragazzi, e poi ragazzi, la felicità. E poi ragazzi, la felicità.